La sezione tabelle di ripartizione permette la gestione delle tabelle da utilizzarsi per la ripartizione delle spese, sia in fase di preventivo che di consuntivo. La sezione è divisa in due parti, a sinistra l'elenco delle tabelle millesimali presenti, ordinate per sigla, e da destra il dettaglio di ogni tabella. Al momento dell'inserimento di una nuova tabella vengono richiesti i seguenti dati. Sigla identificativa della tabella fino a sei caratteri alfanumerici. Descrizione della tabella. Gruppo di immobili facenti parte della tabella. Tipologia. L'utilizzo del gruppo, seppur facoltativo, inserisce nella tabella tutte le unità appartenenti al gruppo stesso. Definendo correttamente i gruppi, non sarà quindi necessario inserire o eliminare unità. Operazione è comunque possibile attraverso i comandi Appendi, Inserisci o Elimina. Le tipologie di tabelle previste dal programma sono Standard. Verrà generata una nuova tabella riportante automaticamente le unità immobiliari, i proprietari locatori e inquilini conduttori, alla quale dovranno essere attribuiti relativi valori millesimali. Sarà possibile tramite il menu contestuale anche importare tabelle da altro esercizio, o da una pratica di Millesimus, il software GeoNetwork per la predisposizione e il calcolo delle tabelle millesimali. Composta. Selezionando quest'opzione al momento della creazione di una tabella, verrà creata una particolare tabella di ripartizione, dove sarà possibile specificare N sottotabelle, con il relativo peso percentuale sul totale. Nell'esempio riportato, si nota che la tabella composta è suddivisa in tre sottotabelle, con pesi percentuali differenti, 70%, 15% e 15%. I singoli valori delle tre tabelle verranno infine ripartiti in base alle suddette percentuali. Tramite il pulsante Preleva valori da tabelle esistenti, è possibile inserire direttamente una o più tabelle precedentemente memorizzate. Inserendo invece le tabelle con il pulsante Appendi, i valori dovranno essere specificati manualmente all'interno della pagina Definizione Valori. Accontatore. Per ripartire le spese a consuntivo. Questa opzione permette di specificare vari parametri quali fasce di consumo, costi proporzionali ai consumi, spese fisse e letture, al fine della creazione di una tabella da utilizzarsi per le spese a consumo non diretto, le cui letture vengono effettuate tipicamente una volta ad esercizio. Selezionando questa opzione al momento della creazione di una tabella, verrà creata una particolare tabella di ripartizione da utilizzarsi per le spese a consumo non diretto, dove sarà possibile specificare le singole bollette ricevute, nelle quali specificare le tariffe per fasce, le quote fisse da ripartire in parti uguali ed i costi proporzionali ai consumi, le letture dei singoli contatori. Naturalmente è possibile inserire al posto delle singole bollette ricevute una singola bolletta riepilogativa con gli importi totali. Questa funzione, infatti, non ripartisce direttamente le spese, ad esempio l'acqua, ma crea una tabella valida per l'intero esercizio che andrà a ripartire tutte le fatture per quella tipologia. Per meglio comprendere il funzionamento delle tabelle a contatore, è possibile stampare il prospetto di ripartizione che indicherà, oltre ai dati inseriti, i consumi riproporzionati sulla base delle letture dei metri cubi, conteggiati sulle bollette e la relativa suddivisione in fasce di consumo. Accontatore semplificato, che proporrà una modalità di compilazione simile alla precedente, ma con minori parametri di personalizzazione, con la possibilità di rivalutare i valori in base ad un'altra tabella selezionabile. Inoltre è possibile selezionare le seguenti opzioni. Suddividi equamente i millesimi fra le unità appartenenti al gruppo. Ad ogni unità appartenente al gruppo selezionato verrà automaticamente assegnato un valore uguale, pari a 1000 numero unità. Selezione manuale delle unità. L'attivazione di questa opzione non genererà automaticamente la tabella delle unità. Le unità immobiliari dovranno essere, attraverso appositi flag, selezionate manualmente. Una volta specificate tutte le unità della tabella, è sufficiente indicare il relativo valore millesimale.